Ciao ragazzi e benvenuti, siamo sempre da Cavallemusica e siamo qua per presentare in questo video le nuove Eco Aire Relic, con i vari colori, Sambast, Fiesta Red e Daphne Blue. In realtà le chitarre a cui pagano cambiano chiaramente le finiture estetiche, sono completamente reliccate davanti e dietro con un'ottima cura dei particolari, 24 tasti, un classica 22, unbucker già zebrato, già montato di serie su tutte e tre chitarre, controlli classici selettore a 5 posizione, volume, due toni e la nuova paletta Eco disegnata con quattro meccaniche superiori e due meccaniche sotto, una paletta un po' particolare e un nuovo disegno di Eco. Sentiamo un po' con un po' di suoni puliti, distorti, crunch e così via, cosa riusciamo a ottenere con questa nuova chitarra. Sambast, quali? Grazie a tutti. Molto dinamica, molto spinta, ancora su un crunch. Grazie a tutti. Grazie a tutti.